Benvenuti. Siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e dirittore del CPP, il centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti. Benvenuti professore. Salve, eccomi qua. Professor Novara, recentemente l'onorevole Frassinetti, sottosegretario ministro dell'istruzione e del merito, ha annunciato il ritorno dei voti numerici nella scuola primaria, ritenendo che il giudizio ha creato disorientamento tra i genitori ed ha complicato il lavoro dei docenti. Lei ha sempre sostenuto l'importanza di una valutazione evolutiva. Cosa comporta questo cambiamento? Qual è la differenza tra una valutazione numerica e quella con giudizio? Esatto, è una domanda molto molto importante in quanto bisogna sgombrare il campo dell'equivoco. Chi, come il sottoscritto e migliaia di pedagogisti nel mondo, si batte contro la valutazione numerica, il cosiddetto voto, lo fa con una consapevolezza che la valutazione scolastica è un diritto assoluto per ogni alunno, per ogni alunna, perché vuol dire restituire il percorso di apprendimento e di crescita a un usufruttore della scuola stessa e quindi è proprio un diritto allo Stato puro. Ma far coincidere, come sostengono i fautori del voto numerico, la valutazione con un numero è un equivoco estremamente pericoloso che la scuola degli anni 70 e 80, la scuola italiana degli anni 70, aveva risolto almeno nell'area della cosiddetta per l'epoca scuola dell'obbligo, cioè nelle elementari e nelle medie, all'epoca si chiamavano così, vennero aboliti i voti numerici e sostituiti da formulazioni più ampio stesso che uscì dalle medie nel lontanissimo 71, 72, adesso non ricordo neanche, uscì con discreto, il massimo era ottimo, poi c'era buono, sufficiente, insufficiente, erano 6 le tipologie sostanzialmente e lo stesso valeva poi per la scuola elementare. Improvvisamente questo sistema che comunque aveva dato dei buoni risultati, che perlomeno la scuola dell'epoca non aveva la dispersione scolastica che oggi non aveva il fenomeno dei net, insomma comunque funzionava abbastanza bene, viene messa in discussione, viene letteralmente liquidata nel 2009 dall'allora ministra della pubblica istruzione Gelmini che oltre a questo fece anche una serie di tagli sulla scuola tipo molto dolorosa fu la soppressione della compresenza delle insegnanti nella scuola dell'infanzia, molto dolorosa perché poi ebbe delle conseguenze sul modo di lavorare nella scuola dell'infanzia, la nostra scuola dell'infanzia statale era considerata fra le migliori al mondo, però era una questione economica, insomma un momento economico critico, ma togliere la valutazione basata sostanzialmente su giudizi, quella era basata su giudizi, per tornare a un metodo anni 60, anni 60, lo intendiamo, quindi proprio preistorico, risultò un'operazione su cui sulle prime i sindacati e non solo loro cercarono di resistere, ma come nota chi governa poi governa e quindi pertanto dal 2009 fino a tre anni fa in controtendenza assoluta a livello europeo, dove sostanzialmente il voto numerico nell'ambito infantile non esiste, viene ripristinato proprio nella scuola cosiddetta primaria. Tre anni fa, con Ministra Lucia Azzolina, sulla base del lavoro di una commissione importante con pedagogisti importanti che stava lavorando presso il Ministero da un tot di tempo, viene deciso di tornare a un metodo di valutazione cosiddetto narrativo, il termine giudizio non è adeguato, non è giusto, perché si esce dalla formula del numero che è una formula, come dire, di cristallizzazione del giudizio appunto, in un numero, il numero è qualcosa di molto rigido, per andare verso una formula più flessibile. Rispetto agli anni 70-80 si passò, stiamo parlando di tre anni fa, da sei formulazioni a quattro e che sono questi? In via di prima acquisizione, base, intermedio, avanzato. Far coincidere queste quattro formulazioni con un sistema di voto numerico che è da 0 a 10 è assolutamente improprio e non ha nessun senso sostenere che i genitori, che ovviamente in Italia qualsiasi cosa succeda è colpa dei genitori, anche il cambiamento climatico, anche le alluvioni, la scottatura in spiaggia è colpa dei genitori, qualsiasi cosa è colpa dei genitori. Allora anche lì, sostenere che i genitori tendono a sovrapporre queste espressioni narrative al voto è abbastanza originale, perché il voto va da 0 a 10, qua ne abbiamo solo quattro, ci vuole una certa fantasia per riuscire a sostenere un'idea del genere. No, in epoca di algoritmi vuol dire che proprio la matematica non è il loro forte. Ecco, magari sì, queste persone forse quattro in matematica l'avevano sul serio. Fra 10 e 4 c'è una bella differenza, scusate, signori sostenitori del voto numerico. Pertanto, tre anni fa, cosa si fece? Si passò non solo dal voto numerico al giudizio, ma addirittura dal giudizio a un'espressione narrativa della crescita. Quindi una valutazione, e questo è molto importante, e mi permetto di sottolinearlo, parlante. I voti numerici non parlano. Cosa vuol dire tre e mezzo? Boh, allora vai dall'insegnante, te lo spiega, ma no, non preoccuparti, vedrai che ce la fai. Boh, non so, tre e mezzo, non è semplice da recuperare. E allora ti devi far spiegare. E su che base? Sulle supposizioni dell'insegnante. Viceversa, una valutazione narrativa permette di spiegare a che punto è. L'alunno, rispetto agli apprendimenti, sta imparando a leggere, sta imparando a scrivere in corsivo, riesce a costruire un tema libero, ecco, stiamo parlando di prima e seconda elementare, ce la fa a studiare una pagina e a sintetizzarla, ecco, la valutazione che esce dalla cristallizzazione del numero che non parla, ribadisco, a una forma narrativa, permette al genitore, ma anche alle insegnanti, di capire. Non ti dover sempre andare a chiedere cosa vuol dire quattro e mezzo e quattro e mezzo al cinque meno meno, cosa vuol dire, ecco, con lo meno non lo sa neanche l'insegnante, ma comunque, ci sono poi gli effetti anche degenerativi, no? Dal due e mezzo al tre meno meno, francamente, grida, vendetta, ecco, come voto, insomma, bisogna anche avere buon senso, diventare le forme più imbarazzanti. Ecco, a tal proposito, nel vicino di Roma è stata bocciata la sperimentazione di una scuola senza voti, il tutto con strascini polemici su questa metodologia, tra chi la ritiene utile e chi non. Perché questa difficoltà legata al voto numerico a scuola, quando poi nel mondo del lavoro la maggior parte delle valutazioni è fatta in modo descrittivo? Esatto, e perché tutta questa resistenza? Io penso per un motivo ideologico, vorrei fare un appello anche al governo, facciamo attenzione, il mio è un discorso puramente tecnico, abbiamo bisogno che la scuola si riprenda, in questo momento la scuola è in una situazione di fatica, come è noto, ma la scuola è l'istituzione più importante di una società, prepara i futuri cittadini, e quindi usare una valutazione che ha una storia semplicemente archeologica, come quella del voto numerico, storia che peraltro nessuno conosce bene l'origine, chiaramente io ho provato anche a studiare l'origine del voto numerico, così nella leatorietà del passato. Perché, ecco, accanirsi a voler riprendere a tutti i costi il passato? Sembra esserci quasi una veleità, diciamo così ideologica, come se il passato fosse necessariamente migliore del presente, ma la scuola deve andare avanti, deve essere sintonizzata con le esigenze dei ragazzi, sempre più, come dire, pretenziosi, sempre più anche intelligenti, diciamolo pure, e sono in grado di capire una valutazione narrativa e davvero poco poco in grado di capire un misterioso voto numerico dal 6 al 7, che differenza fa con 6 e mezzo? E' un altro mistero di queste definizioni numeriche. Allora mi spiace, come dire, per il liceo Morgagni, ma è anche importante quello che è successo al Morgagni, perché ci ricorda che l'autonomia scolastica permette, consente ad ogni collegio docenti di regolare la valutazione secondo principi pedagogici e non principi numerici, come hanno fatto al Morgagni, come sta facendo l'Istituto Agrario di Pesaro. Io l'anno scorso ebbi l'invito a partecipare a una delle loro giornate formative, ma come stanno facendo tante scuole, ma anche nella scuola primaria non solo abbiamo la valutazione narrativa, ma abbiamo anche la possibilità applicata in tante scuole primarie che nel primo credrimestre della prima elementare non mettere niente, non dare valutazioni esplicite. E questo valeva tanto più quando alle elementari c'era ancora il voto numerico. Oggi dobbiamo riconoscere che nella vita nessuno nelle aziende ti dà un voto, ma ti restituisce le tue competenze, le tue prestazioni, ti dà, come dire, una contestualizzazione rispetto a quello che sai fare e non sai fare. è molto importante, quindi avere un ragionamento non un numero che ti va a incasellare. Non so se mi spiego. Poi i numeri, come è noto, ci rimandano anche a situazioni storiche poco simpatiche. Ecco, mi riaggancio il fatto a lei che prima diceva che lei dà un giudizio tecnico. A tal proposito mi è capitato di dialogare con alcuni esponenti politici proprio sul tema del voto e mi sono accorto che la loro visione era limitata alla valutazione della singola performance come il compito in classe o un'interrogazione. Ci aiuta a comprendere la prospettiva temporale e cosa cambia nella valutazione con giudizio o narrativa, come ci diceva prima? Diciamo che la politica potrebbe equivocare e pensare che il semplicismo, la semplicetteria del voto numerico rappresenti il desiderata dei genitori e degli alunni. Ma non è così. I genitori oggi sono attivi e hanno piacere che venga restituito al proprio figlio un discorso sulla valutazione, sulla partecipazione scolastica, non semplicemente un numero. Io trovo che questo sia molto equivoco proprio, sia qualcosa che non rende la complessità della società in cui viviamo. Facciamo attenzione perché a voler semplificare tutto poi si rischiano anche delle cadute. Allora la scuola sono solo le materie? La scuola è solo un'interrogazione? Ecco, la valutazione è un'attività molto complessa, molto molto complessa. Non è che se un ragazzino o una ragazzina fa un compito in classe più o meno adeguato risolve il problema di capire cosa sta imparando. Penso che il compito in classe è semplicemente una pratica e così abitudinaria legata al fatto che tu eri alunno, avevi i compiti in classe, adesso replichi i compiti in classe, tu eri alunno, avevi l'interrogazione, vai avanti con l'interrogazione. come dire, un modello di scuola molto molto rigido per fare una vera valutazione, io ho proposto la valutazione evolutiva, cioè cerchiamo di capire quali sono i punti di partenza di un alunno, punti di partenza, con una cosiddetta prova d'opera iniziale. qualcuno, per i ragazzi preadolescenti o anche adolescenti, far fare il proprio albero genealogico, dove ci sono dentro elementi di matematica, di storia, di narrazione, un albero genealogico descrittivo con dentro tutte le storie degli antenati. ecco, da lì capisci se un ragazzino al limite è disgrafico, se ha un senso storico, se comunque sa mettere in fila anche alcuni concetti matematici, ecco, quel tanto che basta per capire i punti di partenza e su questo puoi costruire una valutazione che valuti i progressi. Io sono assolutamente dell'idea che la valutazione scolastica in una scuola come esperienza di formazione, di crescita, debba valutare non gli errori, perché gli errori sono inevitabili. Inevitabili. Come si fa a non sbagliare? Soltanto sbagliando noi possiamo imparare. Se tu stai prendendo la patente e fai le prime scuole guida, la pretesa di non sbagliare non ti porterà niente, semplicemente invece di prendere la patente continuerai ad andare in bicicletta. No? E quindi non ha senso valutare gli sbagli, perché altrimenti la paura dello sbaglio blocca l'apprendimento. Se invece tu, insegnante, valuti i progressi, favorisci nell'alunno lo sviluppo delle proprie risorse, piuttosto che l'indolenza. E perché? C'è anche il problema inverso. Se un ragazzo è molto bravo e ha già raggiunto il voto numerico di 9-10, che chissà cosa vuol dire, e poi cosa fa? Sta lì ad aspettare che cosa? Invece ad ogni alunno devi sempre chiedere di andare avanti, di andare ad acquisire nuovi apprendimenti, di fare progressi. per cui la valutazione evolutiva che ne dicono i fautori del voto numerico a tutti i costi, è il contrario della pigrizia. La pigrizia è il voto numerico che ti dice ok, come facevo io al liceo scientifico, non ho la sufficienza, bom, basta, almeno non sono rimandato e mi faccio l'estate libera. Io ho fatto 5 anni al liceo con tutti i 6, però mai rimandato a questo obiettivo, farmi l'estate libera. Poi insomma all'università mi sono dovuto dare da fare, ma però capisci, è pigrizia questa, dobbiamo alimentare la pigrizia di quelli che una volta arrivati al 6 si fermano. È chiaro che dobbiamo chiedere agli alunni di continuare a imparare, di continuare a dare il meglio. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda che si collega con quello che lei ci ha appena detto. Per fare una buona valutazione, qualsiasi essa sia, è necessaria una formazione. Stiamo parlando della docimologia. Come ci si dovrebbe formare per una valutazione evolutiva? Esatto, la formazione è tutto. Come è noto, tutte le ricerche internazionali continuano a restituirci che una scuola di qualità vuole dire insegnanti di qualità. Non ci sono scorciatoi. Il fattore umano nella scuola è tutto. Noi abbiamo insegnanti oggi in Italia che hanno grandi capacità empatiche, appassionati del loro lavoro, ma purtroppo non viene fatta attenzione sull'aggiornamento metodologico, sulla formazione alle nuove tecniche, ai nuovi dispositivi pedagogici. Ecco, è ecologico che una valutazione evolutiva ha bisogno di formazione. È una formazione operativa, pratica. Il metodo è sempre il solito. un momento di full immersion formativo, l'applicazione da parte degli insegnanti e poi una supervisione in progress. Cioè, conta di più la manutenzione formativa che non la formazione in quanto tale. se l'istituzione non garantisse ai suoi insegnanti di essere seguiti nel corso dell'anno rispetto alle novità metodologiche, poi queste novità si perdono. Ma sono metodi che si usano peraltro in tutte le aziende. Quando c'è un'informazione e aggiornamento poi si prevede in primis il follow up, in secundis e la supervisione. Ecco, nei centri che seguo io e che applicano anche la valutazione evolutiva come il CFP, Centro di Formazione Professionale di Lecco, ovviamente si fa sempre formazione e poi io garantisco supervisione sistematica lungo tutto l'anno, magari pochi anni e ore, ma però quel tanto che basta per tenere gli insegnanti ancorati al cambiamento, altrimenti il cambiamento non diventa automatismo, non diventa padronanza, bisogna padroneggiarlo perché ovviamente come tutte le novità sulle prime generano un po' di ansia e di incertezza, poi quando capisci che ce la puoi fare sei contento e ti rendi conto che stai dando ai tuoi alunni una prospettiva di successo e se così si può dire anche una prospettiva di benessere e di felicità. grazie professor Navara per essere stato con noi grazie a voi un caro saluto grazie a tutti grazie a tutti